E' possibile ottenere una collezione intera di Yu-Gi-Oh! a meno di 25 euro? Quale sarà la tematica principale che caratterizzerà questa raccolta e dove sarà possibile reperire ogni singolo pezzo che la comporrà? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale ed in questo primo atto della nuova rubrica Colleziono da Zero. Quest'oggi parleremo di come sarà possibile riuscire a reperire un'intera raccolta di carte che vedrà uno dei mostri del meraviglioso e tenebroso mondo di Yu-Gi-Oh! esserne il protagonista. In realtà credo fermamente che carta più iconica di questa non ci sia, anche perché ha presentato sempre in ogni singola serie animata la sua personale versione, partendo da quella canonica che tutti gli appassionati conoscono passando per la controparte alata, presentando in questo caso anche diversi livelli come l'8 e il 10, l'astrale e quello a sfera, andando a formare infine una vera e propria famiglia di fratelli. Sto parlando di Kuribo. Ho sempre trovato particolarmente interessante la storia di questo mostriciattolo e da quando ho iniziato a giocarlo ha sempre suscitato in me un moto di affetto. E quindi da GX in poi ho iniziato a collezionarli tutti, anche perché ho notato un certo interesse nel volerne inventare sempre di nuovi dalla casa madre che addirittura ha dedicato alla palla di pelo più famosa del brand un calendario dell'avvento nel 2019 ed un'intera espansione chiamata I fratelli della leggenda pubblicata due anni dopo. Ma la storia strabiliante di questo protagonista assoluto non si ferma qui, infatti è rientrato nella top 3 piazzandosi proprio al terzo posto tra i personaggi preferiti di sempre di Kazuki Takahashi, il creatore di Yu-Gi-Oh! Eroicamente scomparso l'anno scorso a causa di un incidente marittimo. E così recuperati gli ultimi elementi provenienti dall'ottava stagione Rush Go, ho deciso di mostrarvi la mia personale collezione di Kuribo con tutti i suoi alter ego. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali carte faranno parte della collezione Yu-Gi-Oh! dedicata a Kuribo. Andiamo a dargli un'occhiata. Notate bene! Il costo inferiore a 25 euro è riferito all'intera collezione e potrebbe essere soggetto a variazioni di mercato. Tale valore è dato dalla somma delle carte che ho reperito personalmente. L'intera raccolta sarà formata da un numero totale approssimativo di 40 carte, dove, in questo caso disposte in ordine di apparizione e suddivise per categoria, saranno presenti elementi più o meno conosciuti a tutti gli appassionati. Ma vediamo più nel dettaglio gli elementi che comporranno questa collezione. Per quanto riguarda l'ultimo mostro visto, ovvero il fantasma miserabile della soffitta, circolano molte voci al riguardo, come anche per Sanghan, che personalmente non ho inserito nella collezione per i motivi che fra poco vi illustrerò. Infatti per il giallone il suo aspetto indicherà in tutto e per tutto un Kuribo, a parte i colori che nel primo sono accesi e vividi, mentre per lo spettro più tendenti al bluastro, che caratterizzerà soprattutto la tonalità delle mani e delle zampe, tipico colore, se ci fate caso, di quei corpi ai quali è stato privato l'ossigeno. Ed essendo un fantasma, come teoria ci può anche stare. Mentre per il Sanghan, alcuni affermano che quest'ultimo sia una versione malvagia e più evoluta di Kuribo, altri invece confermano la relazione tra questi due mostri soffermandosi sul nome giapponese di Sanghan stesso, ovvero Kurita, che a livello fonetico somiglia molto al nome di Kuribo. Personalmente però non sono riuscito a vedere un nesso logico che unisse questi due mostri, a differenza invece del fantasma miserabile della soffitta, la quale somiglianza con Kuribo è palese, quindi miserabile dentro, Sanghan purtroppo fuori. E così dopo aver visionato l'intero reparto creature, esploriamo assieme il settore magie, che forniranno un validissimo supporto a questa numerosissima famiglia di mostriciattoli, nel mentre affronteranno le numerose battaglie che li aspetteranno. Ora, per carte come Generation Next, ali trascendentali, Sabatiel, la pietra filosofale e moltiplicare, la scelta di inserirle nella raccolta è stata dettata dal fatto che presentavano tutte e quattro il termine Kuribo nel box di testo. Ovviamente non comprendere moltiplicatore ed ali trascendentali avrebbe fatto di me un eretico, essendo una più rappresentativa dell'altra. Per Sabatiel e Generation invece, l'essere state utilizzate sicuramente meno rispetto alle altre due controparti, mi ha fatto dubitare leggermente sull'includerle o meno, ma alla fine ho deciso di farlo per una motivazione più di completezza che di immagine. Della serie, questa carta riporta il nome del protagonista della raccolta? Va inclusa, senza troppi sé o ma. Assente d'onore, sto aspettando ancora la consegna della carta che al momento è in viaggio ed appena arriverà ve la mostrerò in carne ed ossa, è il Magi Kuribo del set Battle of Chaos, al quale è stato dedicato un intero set di accessori che vedono Playmat, bustine protettive, tech box ed album a nove pagine farne parte. A tal proposito, prima di concludere, vi lascerò in descrizione sia gli accessori appena menzionati che la lista completa delle carte di questa collezione, con indirizzo web del sito di riferimento dove potrete reperire le singole copie. In più, con il mio referral link fornitomi dai signori di Cartrader, registrandovi con esso avrete diritto a 2 euro di bonus da spendere immediatamente. Inoltre, non perdetevi i vari shorts dove andrò a trattare gli aggiornamenti di eventuali nuove carte che andranno ad aggiungersi a questa raccolta. E voi, entrerete a far parte della numerosa famiglia Kuribo attraverso questa collezione? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.